Ciao ragazzi, benvenuti tornare al canale oggi vediamo questo nuovo sito che mi invitano per 25 dollari cioè non è il video che mi pagano ma dicono che se mettere il mio link nel canale se mettere il link nel canale vedete? Ascmi.com si chiama sembra divertente perché praticamente entro sorry, questo è scambio praticamente entro nel link e puoi chiedere mi metto curiosità e question cioè tutto che vuoi e qui può essere per gratis sorry per il cut quindi puoi chiedere per gratis se mi chiedi per gratis non per tipi se hai 10 cent 1 cent che hai nel Paypal perché questo è tutto in Paypal ma quando c'è la scelta ho con Stripe ho già mio Stripe c'era ho fatto un account Stripe quindi se voglio prendere un account ho fatto un account di Paypal oppure perché questo è da te generosità perché ogni volta non vedo quale è il problema con i miei conti ogni volta ho fatto la monetizzazione quindi grazie ho questo supporto oggi è arrivato questo e mi ha dato 25 dollari dicono se mettere il primo link perché qui ho tutti i link ragazzi vedete mi chiede la mia Facebook e la Patreon che ho mi chiede un coffee quindi ho molti account tutti costco month in ogni sito anche oggi consiglio questo nuovo tipo di sito Became Chat Operator Became I'm a Chat Operator today cioè new job you have opportunity to work as a Chat Operator and earn 300$ weekly so this I apply this money so this is the bonus so they put me the link for ask me and in bonus ok only me do this there is a bonus because me I'm a generous person and not greedy like some sites that they start with why comunque me I'm a generous guardate qua become a chat operator today quindi I apply and I wait in the answer I hope that is working it's not a scam comunque all the sites that I put do the reaction I try not to put the scam also this I'm waiting very excited because I have 780 points I do another point survey and they put me 450 points just with one survey so it's very high but the problem with Ipsos I say is that the survey are little like one time in the week but when there is the survey it's high pay so it depends I think on the country where you live it depends on the country and they give you more points we'll see you next video ciao like I do every time surprise M because me I don't like to say bad words I put M PEEP ok surprise M PEEP there is a giveaway a lot I'm thinking the rules of the giveaway why to do the new giveaway if you do the giveaway for the best comment that make me feel very proud that I'm editing my videos ok who do the best comment there is a prize so there is first second and third winner and this giveaway and I do also the certificate because me I'm good in this another hide gift that I have is doing the certificate so if you do the best comment I give you a certificate also that way there is the price that we decide with my wife ok see you next video ciao